Questa mattina, potrebbero partire credo anche le immagini dalla regia, noi siamo stati a seguire parte della distribuzione di un nuovo quantitativo di mascherine nella zona di Borgo San Sergio, precisamente negli stabili di via di Vittorio 16 e di via di Vittorio 18. Come sapete è cambiato un po' il criterio negli ultimi giorni della distribuzione di mascherine, non più un kit per ogni componente, il nucleo familiare, ma un kit per famiglia. Questo rende più rapida la distribuzione appunto dei kit di mascherine, rende anche la distribuzione più agevole perché mi facevano notare gli alpini che abbiamo seguito che molto spesso dovevano mettere nelle cassette della posta addirittura 4 o 5 kit di mascherine e questo diventava piuttosto complesso e piuttosto macchinoso. La distribuzione procede dunque a quantitativi ridotti ma su scala logicamente maggiore e come sempre seguendo questo criterio che ha preso il via dalla divisione delle città in circoscrizioni da censimento. Privilegiando quelle dove vi sia un maggior numero di persone over 75 e un maggior numero di densità di popolazione. Oggi gli alpini mi hanno detto anche, mi hanno raccontato delle cose molto curiose perché spesso vengono accolti dagli applausi della gente, alcuni lasciano loro qualcosa da mangiare, alcuni magari pensando che arrivino gli fanno trovare qualche cosa da mangiare, birre da bere, cioccolatini, dolci fatti in casa eccetera. Logicamente gli alpini non possono accettare questo tipo di ringraziamento. Però mi fanno notare che la cosa fa loro un enorme piacere. Nei primi giorni addirittura venivano accolti persino dall'inno di Mameli che alcuni magari suonavano dal proprio terrazzo.